Ciao, creatura. Io sono Eccati Splendenti, benvenuta o bentornata nel regno di Gullai, A-S-M-A. Questa sera ci guardiamo a grande richiesta il volantino del Lidl, ok, non si può tanto uscire, ok, le offerte sono scadute, ma non importa, ce lo guardiamo per puro intrattenimento, totalmente per rilassarci insieme e godere dei suoni della carta, della vicina che fa rumore. E che tira l'acqua? Cosa sempre da tirare l'acqua? Non si sa. E per il puro piacere di stare in compagnia, come ai vecchi tempi, e sfogliare un catalogo, e guardare tante cose buone. E visto che è una buona Pasqua per tutti, cerchiamo di distrarci e pensare ad altro, ecco, diciamo così. Questo è il volantino, erano offerte valide dal 9.3 al 15.3, quindi marzo. E il volantino è sui toni del verde, qui, quindi ci piace molto, primaverini. Allora, qui abbiamo astice americano precotto a 8,99 euro, il patè di carciofi 1,29 euro, sempre della marca deluxe, e la crème brûlée con uova da galline allevate all'aperto, 1,49 euro, due confezioni da 100 grammi. Mi fa voglia. Allora i carciofi non mi piacciono, quindi non mi fanno voglia. Lastici sì, però costa troppo. Qui abbiamo un concorso, dove dice, grande concorso deluxe, una Pasqua, carica di premi. Dal 9 marzo al 12 aprile fai una spesa di almeno 25 euro, i tuoi prodotti deluxe, e scopri i premi in palio. Ad estrazione finale, una nuova mini, full electric, 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 versione S, mi fa schifo la mini. Come macchina proprio non mi piace, quindi potete tenervela. Eccolo qua, se no puoi vincere 15 monopattini. Belli questi monopattini, mi piacciono. Borracce, le borracce mi piacciono, non stai vedendo nulla. Sono borracce personalizzate con il tuo nome. No, lo voglio uno che ho scritto Sam Culo Merda. No, Eccate. Sai con una che ho scritto Eccate, splendente, adoro. E poi queste biciclette da donna, no? Biciclette. Poi, eccolo qua. Eccoli qua le nostre fantastiche offerte. Allora abbiamo, come se fosse il mio negozio, tortelloni, corribie noi, funghi, oricotta e spinaci. A 0,99. Non ne ho mai associati questi, però sono dei gusti così banali. Vero? Sacchettini o tortelloni, sacchettini al tortufo o tortelloni con fontina e spinaci. Allora, al tortufo non mi piacciono. Fontina e spinaci mi fanno molta gula, molta voglia. A 0,99 euro. Panserotti con ripieno ai gamberi e polpa di granchio. A 1,49 euro. Li ho già mangiati, non sono male. Poi, niente, avvicinateci su di romperi. Gnocchi, guarda pazienza. Gnocchi ripieni con salmone. Fingiamo che stia piovendo. Non so cosa stia facendo. 1,49 euro. Fanno voglia questi ripieni di salmone, vero? A me fanno gula. Strano, non ho mai fame. Salame alvino primitivo, Puglia, IGP. 2,49 euro. Non l'ho mai assaggiato, non ho idea. Se mi piaccia, quindi lo assaggerei per curiosità. Culatello affettato, 2,99 euro. Prosciutto, fumè. Non lo vedi? Qua, 1,99 euro. Non l'ho mai assaggiato. Sarà tipo fumicato, fumè. Sì, ho fumicato con ligno di faccio. Faccio, 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 faccio. Mi piaccia troppo questa parola, faccio. Che è un albero. Non so come si legga. 1,49 euro. È una preparazione spalmabile a base di pesce. Wow, che voglia. È tipo un patè. Da quello che ho capito, ha vari gusti di mare, che è... Non riesco a leggere salmone, tonno e questo. Questo non riesco a leggerlo. Poi ci sono questi dessert alla frutta. Voglio quello al mango, mango, lampone o al limone. No, 0,99. Mi fa voglia il mango e tu? Limone. Lampone è quello che fa meno voglia, vero? Ma qualcuno farò voglia di sicuro, creatura. Poi ci sono le cheesecake. Dessert su base di biscotto. In due golose varianti. E c'è... Ci sono a 1,79 euro. E sono due cheesecake. Allora, uno è al cioccolato e uno al caramello. Io prenderei caramello. Poi ci sono questi dessert a base di pan di spagna. Al limone o al cioccolato. A 2,49 euro. Prenderei quello al cioccolato. Patate d'uchesse. Un contorno ideale per piatti di carne o pesce. 1,11 euro. Non riuscivo a dire 11. 1,1,1 euro. Funchi porcini tagliati a cubetti. 2,49 euro. Queste sono tutte cose surgerate. Nel banco frigo. Freezer anche. Anzi, banco freezer. Sformatino di patate. Con panna e broccoli. O panna e formaggio. Prenderei panna e broccoli. 2,29 euro. Crocchette ripiene. Con formaggio. Che non conosco. Con tè. L'ho detto giusto. Top. E parmigiano reggiano. A 1,99 euro. Questo mi fa molta voglia. Ovviamente. E' come un po' tutto. Panzerottini ripieni. Con carne suina. O con mazzancolle. 2,49 euro. Questi non sono precotti. Sicuramente saranno o da friggere. O da friggere. Secondo me sì. Dal colore. Profiterò il bianco. Con panna e cacao. Che voglia. 3,99 euro. Fanno molta voglia. Profiterò il bianco. Wow. Tortino al cioccolato. Corri pieno morbido. Al cioccolato fondente. 1,79 euro. Wow. Stranamente mi fanno voglia anche le cose dolci. Qua mi fa voglia tutto. Qua c'è il prenotato a Pasqua. Ma non ci guardiamo neanche perché non si uscirà. Poi. Non ci pensiamo. Pensiamo al cibo. Pensiamo a distrarci. A rilassarci. Caponata. Mix di verdure. A 0,99. Non l'ho mai assaggiata. Io non ho. Penso di non averla mai assaggiata. Quindi non ho idea di cosa sia. Però dice mix di verdure. Cosa sono cucinate. Tipo grillate. Tipo pasta di pomodoro. Non lo so come si mangiano. Con la pasta. Non lo so. Pesto. Con basilico. Rucola. Formaggio e noci. E pesto con funghi. O pesto al tonno. Che voglia. Mi fanno voglia tutti. 1,59 euro. Patè di olive d'aggiasche. 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 In olio extravergine d'oliva. 1,79 euro. Mi fa voglia. Anche questo. Ovviamente. Salsa con tartufo. Ecco no. Niente. Tartufo non mi piace. Quindi non mi fa voglia. 2,49 euro. Condimento. A base di olio d'oliva. Provalo su carne o pesce alla griglia. 1,29 euro. Quindi ci sono questi vari tipi di olio. Aromatizzato. E credo che ci sia anche il tartufo. E non mi piace. Tutto il resto mi piace. Cos'è? Aglio. Peperoncino. Questo. Non si capisce. C'è scritto troppo in piccola. Pateti, funghi, porcini e melanzane. Persaporite e bruschette. Che buono. 1,99 euro. Tartufo estivo. Non mi piace. 4,99 euro. Preparato con riso e carnaroli. In diverse preparazioni. 1,49 euro. Io i risotti mi piace farli. Mi sento anche abbastanza brava. Non per bantarli. E quindi non andrei a comprarli così disidratati. Mi piace farli in casa. E ti dirò anche. Io non ci metto il brodo. Ci metto l'acqua. Vengono buoni lo stesso. Però se è il brodo. Quello salta glutammato. Va bene. E che non si trova facilmente nei negozi. Allora. Quindi cerco di limitare il consumo. Se compro quello che ho amato. Cerco di non comprarlo. Però appunto al Lidl non c'è. Tagliolini al tartufo. Qua è sempre cose deluxe. Qua dice i prodotti deluxe. Selezione gambero rosso. Qui. Gastronomia Lidl. Selezione gambero rosso. In esclusiva solo da Lidl. I nostri migliori qualità prezzo. Tallone di 9.03. Vabbè scadute. Ma non ci guardiamo. Tanto a volte si trovano i prodotti. Fuori dalla promozione. Che stanno comunque in promozione. Non c'è più una regola ormai. Non ci sono più le messe stagioni. Neanche regole nelle offerte. del Lidl. Tagliolini al tartufo. Con uova da galline allevate a terra. 1,49 euro. E niente tartufo. Mi non piace. Provolone dolce con origano. Questa ho voglia. 1,99 euro. Burrata affumicata. La fumicata non so se mi piace. Però la burrata mi piace tantissimo. Ah, 1,29 euro. Credo che la fumicatura rovini un po' il gusto della burra. La burrata che è così puro e burrosa e lattosa. Su con l'astice. A 1,49 euro. Mi fa molta voglia. Misto funghi con porcini spec. 1,99 euro. In questo paese i funghi non mi piacciono particolarmente. Gelato alla nocciola del Piemonte ICB. 0,99 euro. Mi fa voglia. Gelato alla nocciola. Mi fa molta voglia. Preparato per risotto carnaroli al nero di seppia. 1,49 euro. E risotto dei cos. Codico. Da fare ad Halloween. Croccante alle nocciole o alle arachidi. 1,99 euro. Croccante, 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 croccante. Bello, eh? Poi abbiamo un battuto di olive leccino. Leccino con acciughe e capperi. 1,49 euro. Vano essere salatissime. Vero? Buonissime, però. I capperi non mi piacciono, ma le acciughe mi piacciono tantissimo. E anche le olive. Abbiamo altri dolci. Che poi c'è scritto da lunedì. Non c'è scritto che solo lunedì ce l'ho fatta. Allora, le mie adorate chips di verdure. Che io adoro. 1,49 euro. La frutta ricoperta di cioccolato al latte o fondente. Ha 2,99 euro. Buono, però rovini la frutta. Ci sta ogni tanto, però la frutta è così buona. Naturale. Tartuffi di cioccolato ricoperti, ripieni. 2,99 euro. Buoni. Liquore cremoso con panna, whisky. Sarebbe la versione del bellis, credo. A 5,99 euro. Io adoro il bellis, è buonissimo. Poi non ti rendi conto che stai bevendo una cosa alcolica perché sembra un gelato. Quindi fate attenzione. Arance candite e ricoperte di cioccolato fondente. 1,99 euro. 1,99 euro. Candite, non tanto. Amorettini al pistacchio. Biscotto farcito ricoperto con cioccolato al pistacchio. 2,49 euro. E li voglio adesso, tipo, mamma mia, biscotto farcito ricoperto con cioccolato al pistacchio. Cioè, mi triggero solo a leggere lo figlio di mangiarlo. È una cosa orgasmica. Crema da spalmare al pistacchio di mandorla o di nocciola, pure al pistacchio, grazie. 1,99 euro. Colomba classica, in carta da mano. Però, 4,99 euro. Poi qua non ci sono più cose deluxe. Ma le guardiamo lo stesso. Vediamo una veloce guardata, diciamo. Allora, ravioli, ricotta e pistacchio. Wow. 1,29 euro. Casarecci con farina di grano saraceno. Corribino alla presaola. Wow. 1,49 euro. Gnocchi ripieni al pesto o con radicchio e scamorza. 1,49 euro. Ho preso quelli al pesto, io, molto buoni. Li ho conditti col burro. Poi, c'è il formaggio a pasta molle, di latte vaccino, pastorizzato. 1,99 euro. De ser foresta nera. 0,99 euro. Fa voglia di tirami sul lampone. Ma non c'è il caffè, allora? Ah, questi sono mil buona. E questo, nonna mia, sono edizioni limitate. Pensa un po'. Le edizioni limitate mi piacciono. 0,99 euro. Poi, orecchiette al grano arso, tipiche della tradizione pugliese. 0,99 euro. Ho mangiato i tarallini, erano... Con questo grano qui, è buonissimo. Poi, tarallucci, no? Tarallini. Vabbè, questi qui, infatti, così. Ho mangiato con questo grano qua ed è wow, buonissimo. Ha il gusto di cipolla e pancetta. O al pomodoro e origano. Prenderei cipolla e pancetta. 0,99 euro. Patatine con buccia. Aromatizzate. Gusti irresistibili da provare. Addirittura. Le ho già provate, queste. Sono buone. Sono un po' più spesse. Delle classiche chips. Delle classiche patatine in sacchetto. E sembrano molto rustiche. Tipo fatte in casa. Però, insomma, non è così facile farla in casa, quindi. E' molto buono il gusto. Questo qui con il miele. 1,29 euro. Poi abbiamo altre creme spalmabili. Per la merenda dei più golosi. Però non so il gusto. Oh mio Dio, c'è il mou. Crema, le nocciole. Crema bianca al latte. C'è il cocco. E' quella con il cocco, questa, credo. Questa vuole seguire al caffè. 1,49 euro. Non hai vinto le vedi? Ecco le cose. Poi. La bisfrolla. Con crema di cioccolato, le nocciole, le gianduie. 2,99 euro. La vagina non smette di battere. Non so cosa stia sbattendo. Patetti, cipolle, tonno. Wow. Un tocco di gusto per ricette come 1,49 euro. Guarda, pazienza. Se senti sbattere, non posso tagliare ogni 2 secondi. Avrebbe un video di 2 minuti. Poi mi chiedi, fai un video lungo. Eh, ci provo io. Ma se le vicine sono... Eh, non diciamo cosa sono. Rumorose, ecco. Poi qui ci sono le cose normali, diciamo, che si trovano ogni volta. Però stanno in offerta. Sfogliamo velocemente. Ah, ci sono i guanti monouso in offerta. E anche la Schweppes Limone o Tonica. E a me piace tantissimo la Schweppes Limone. Che ha un gusto proprio buonissimo. Da limonata. Sembra una limonata fatta in casa. Poi ci sono i tarallini. Le mie sfoglie croccanti. Adoro. Queste sono le mie preferite. Anche i croissant salati a sé sono buonissimi. Stai chiedendo uno. Dicevo, questi croissant qui salati, te li consiglio, sono buonissimi. Che puoi fare tipo dei sandwich, però in realtà c'è lo zucchero dentro. Sono agrodolci, no agrodolci, dolci salati. È buono il contrasto comunque. Se ci mette le cose salate all'interno. Sono veramente sviziosi. E queste sfoglie croccanti sono le mie preferite. Le adoro. Non sono molto salate. Sono molto sottili. Croccanti. E buonissime. Piacciano anche a Sam. Ovviamente. Quello che mangio io lo mangio anche lei. Dove saper copiare. Poi, qui dice, auguri a tutti i papà per il 19 marzo, per la festa del papà. E quindi, mettono in promozione alcuni prodotti che potresti comprare e regalare ai papà. Tipo cose per farsi la barba. Che brutte persone che siete lì. Se no c'è la crema a viso. Questa è molto carina. Potrebbe inderla mio padre. Anche no, perché non si esce. Però. 2,29 euro. Poi doccia shampoo. Quei profumi lì. Oppure dei rasoi da barba. Ma perché fate queste brutte cose? Taglia capelli, ok? Non tagliatevi la barba. Però il regolo a peli per naso e orecchie è utile. Per non sembrare come certe persone. Sembra che abbiano dei criceti nelle orecchie. Cioè, orribile. Orribile. Poi c'è la Red Bull in offerta. Così. Perché i veri uomini bevono Red Bull. Non credo. Non c'entra. Poi sempre all'opera con Parkside. E c'è, cos'è? Una seganastro. Una smirigliatrice. Un supporto per smirigliatrice e angolare. E tutti i suoi accessori, ovviamente. Poi. Pialla. Levigatrice. Saldatrice. Avvitatore ricaricabile. Lampo da letto. Lampo da lavoro. Poi cosa abbiamo? Misuratura di temperatura ed infrarossi. Per esterni. Rivelatore multifunzione. Un misuratore di umidità. Calibro o coniometro digitale. Scaffale in metallo con cinque ripiani. Quello è utile. Una profonda igiene orale. Abbiamo lo spazzolino da denti elettrico. A 39,99. Lo spazzolino da denti elettrico di Frozen. Oppure quello di Star Wars. Carino. Carino però anche no. Per me no. Poi. Vado bene con il mio spazzolino normale. Accappato io da donna da uomo. A 14,99 euro. E l'asciucamano atturbante per capelli. Questo mi fa molta cura. Già mi fa voglia 3 euro. Nel senso che ve lo comprerei. E' disponibile anche in apparecchi colori. Rosa, azzurro, bianco, nero. Rosso, scuro e blu. Poi ci sono le giabatte da donna da uomo. A 4,99 euro. E poi qui degli accessori. Asse per PC con chiusura automatica. Bella questa cosa. 12 euro 99. La toccetta multifunzione. A 9 euro 99. Poi qua c'è Sien. Il segreto della bellezza. Set mascara e eyeliner. A 3,49 euro. Bello. Rossetti liquidi. A 3,49 euro. Poi c'è dello smalto. Interessante. A 1,79 euro. Poi c'è crema mani. A 99 centesimi. E le veline cosmetiche profumate. A 1,19 euro. Che non vedi. Stanno qua. Poi. Arte culinaria. Culinaria. Allora la macchina per il pane. Che dice la mia zia. È sempre molto apprezzata. Vedo anche su YouTube. Mi sono vista anche i video tutorial. Dove la usano oltre al pane. Ci fanno il mondo dentro. Poi c'è anche il preparato per pane. Ciabatta o rustico. Mi fa voglia. Però lo comprerei. Poi. Tagliere da cucina. Copripiano cottura. A 9,99 euro. Coltello con lamo. In ceramica. A 7,99 euro. O 4,99 euro. Ce li ho già io questi a casa. Ce li ho nero. Bellissimo. E poi servizio di posate. 24 pezzi. A 7,99 euro. Questo. Molto minimal. Mi piace. Ma non è alucinito. Non lo farrebbe Salas Fingers. No. Poi. Doppia piastra. A induzione. Queste bellissime padelle antiaderenti. Molto belle queste padelle. Guarda. Molto belle. Però li ho comprati nuove da poco. Quindi direi anche di no. L'ho preso su Amazon. Rullatore. Ti lascio il link. Se ti interessa. Nell'info box. Rullatore ad immersione. Belli. Perché bei colori un po' anni 50. Non credi? Sì. Poi c'è la piastra per waffle. Che ce l'ho io. Però ho preso quella che fa anche da... Fai waffle. Poi fai toast e poi fa la griglia di verdure o la carne. E questo invece fa le ciambelline e fa dei biscottini. Giusto? Le donuts. Poi c'è la bilancia digitale. La tortiera rettangolare. La teglia allungabile. Questo è molto utile. Lo stampo da forno. E la teglia stampo da forno. Sempre utili queste cose. O altre cose per fare cose dolcetti pasquali. Vediamo un po'. Ci sono set stampini in silicone. Stampo per dolci in silicone. Con queste carinissime fantasie bucciose. Tipo il pandino, il coniglietto, coniglietti. L'alpaca e l'unicorno. Che non stai vedendo. Poi i gentrini. O i birottini. Che carini questi. Ma sono molto carini. Molto carini, molto carini. Rumori molesti everywhere. Poi porta torta. Teglio stampo da forno. Accessori da cucina in silicone. Tovaglie varie. Accessori per prospetticceria. Vari contenitori. Salva freschezza. Poi dolci. Che passione. Ci sono tutte queste cose. Succaro, vaniglia, autoclasse. Eccetera eccetera. Mi viene di abiti solo a guardare. Vanno voglia queste decorazioni di zucchero. Per decorare i dolci biscotti. Odoro il 49. Guarda che carino. Molto carine queste. Ah, questo lo vorrei. Lo staccante alimentare spray universale. Dovrebbe essere tipo olio spray. O burro spray. Una cosa del genere. Si vede spesso nei video americani. Di cucina. Quindi lo vorrei. E... Poi queste cose da giardino. Mi piace questo box da giardino. Ma io non ho un giardino. Quindi... Mi apposta. Mi pare. A me... Aspetta che controllo bene. Ci sono anche... I fiori. Piantine fiori varie. Quelle che mi prenderei sono quelle rampicanti tipo... O queste con i fiori. O queste addirittura che hanno le more. E lamponi. E mirtilli. No. E poi basta. Si conclude col super weekend. Spero che questo video ti abbia fatto rilassare. Nonostante i rumori molesti. Della vicina e dei vicini in generale. Io ti auguro un buon relax. Buonanotte. Ciao creatura.